ciao a tutti sono padre giovanni sono un missionario del pime da otto anni dal 2014 lavoro in cambogia prima ho lavorato nell'animazione missionaria in italia anche a missio giovani con rocco prima alessandro zappalà e sempre con eleonora giovane io ti dico alzati non è una parola magica come quelle che vanno di moda oggi che ci sentiamo ripetere spesso che alcune volte noi stessi ripetiamo non ti preoccupare andrà tutto bene trova la forza in te stesso scavati dentro e troverai le risorse di cui hai bisogno noi il tema di oggi è una parola creatrice è una parola cioè che porta vita laddove la vita si era spenta e se io devo pensare a quando mi sono sentito dal signore rivolgere questa parola questo invito ecco davanti a me un momento un periodo molto preciso ed è quando dopo i tre anni trascorsi a imparare la lingua cambogiana ho iniziato a lavorare come missionario e lì dopo un anno un anno e mezzo ho iniziato a sentire forte il peso del fallimento sì mi sono sentito fallito come 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 prete come missionario ed è molto semplice è facile in una chiesa come quella della cambogia vivere questa situazione la cambogia è un piccolo gregge 20.000 cattolici e dove io sono stato assegnato dal 2018 è un territorio costituito da un manipolo di cristiani 34 e quindi dopo poco dopo essere arrivato con una quantità infinita di progetti con un entusiasmo missionario che voleva incendiare ogni angolo del della cambogia ho iniziato a perdere vigore perché non avevo successo ho iniziato a perdere l'entusiasmo i sogni venivano meno anche la generosità perché ciò che mi era a cuore non andava avanti tutto ciò che proponevo non portava i risultati e quindi perché continuare laddove il seme non attecchisce quando poi mi sono alzato non mi sono alzato sono ancora qui con i miei fallimenti tuttavia mi sono sentito rivolgere questa parola creatrice mi sono sentito cioè rivolgere da gesù questo invito che mi diceva riscopri la consapevolezza per cui si è arrivato lì in cambogia che non è quello di avere successo che non è quello di avere adepti ma è quello di ricevere e donare vita e ricordati che se doni vita poi qualcuno la accoglie sempre e comunque ecco aver ascoltato questa parola ha riacceso in me il desiderio il desiderio di andare avanti il desiderio di di continuare in questa terra che il signore mi ha affidato consapevole di non essere io il protagonista io non vi auguro di alzarmi i miei cari ragazzi perché alzarsi presuppone cadere e cadere fa sempre male vi auguro però di camminare perché chi non cammina non cade e chi non cade non va neanche avanti vi abbraccio tutti e buon comici a